Sono Marco Merlo, conservatore del Museo delle Armi e benvenuti a questa nuova puntata dell'Opera del Mese. Oggi parleremo della schiena di corsaletto da piede alla pisana della collezione Marzoli appartenuto a un trabante della famiglia Medici. Intanto cosa sono i corsaletti da piede? Tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento l'armatura, che fino a quel momento era l'armatura da guerra, con poche distinzioni tra guerra a cavallo, guerra a piedi, torneo e vari tipi di torneo, inizia a diversificarsi e per ogni occasione inizia a nascere un'armatura particolare. I corsaletti da piede sono appunto le armature indossate dai fanti per il combattimento a piedi e sono molto famose quelle dei Lanzichenecchi, di cui la collezione Marzoli ha una buona rappresentanza, poiché Luigi Marzoli le aveva comprate e acquistate proprio per confrontarle con la produzione dei corsaletti da piede beresciana, che è una tradizione lunga e molto famosa. Il nostro corsaletto da piede è quindi un'armatura da fante definita la pisana. Che cosa significa? Premettiamo che è un termine convenzionale che identifica tutta una serie di armature che vedremo e il termine nasce nel 1873 quando il De Bellival, trovandosi a schedare una collezione svizzera, trovò un gran numero di questa tipologia di armature e una di queste allo scollo recava un globo, proprio come quello nella foto, un globo sormontato da croce con una lettera P all'interno. All'epoca, non avendo altri elementi per collocare questa tipologia di armature, che è piuttosto vasta e se ne conservano tantissime, pensò che potesse trattarsi di un arsenale pisano. In realtà a Pisa non si produssero mai armature, tantomeno ci fu un arsenale. Tuttavia il nome convenzionale di Pisana rimane, ed è tutt'oggi, il nome con cui identifichiamo questo grandissimo nucleo di armature, di corsaletti da piede, con una decorazione simile tra loro. Sono un prodotto tipicamente bresciano. Come mai a Brescia si iniziano a produrre questa tipologia di armature, soprattutto i corsaletti da piede all'inizio del Cinquecento? Perché a Brescia, proprio tra Quattro e Cinquecento, viene costruito un nuovo tipo di alto forno, che viene appunto chiamato alto forno alla Bresciana, che permette di ottimizzare il lavoro e quindi lavorare più velocemente e in maniera migliore grandi quantità di metallo. Brescia fino a quel momento lì, quindi per tutto il Medioevo, conosciamo una produzione di armature, di armi, che però non sembra essere almeno allo stato attuale degli studi nel Medioevo, superiore o comunque che si distingue dalle altre città italiane, a una produzione che è più o meno la stessa delle altre città. Le cose iniziano a cambiare verso la fine del Quattrocento, quando alcuni armorari, cioè produttori di armature milanesi, decidono di spostare le loro botteghe a Brescia e nel giro di pochi anni appunto viene ideato questo forno che tuttora per indicarlo si dice alla Bresciana e quindi nacque proprio in quel momento lì una tradizione armiera che investì non solo le armature ma anche le armi bianche e soprattutto le armi da fuoco, ma che per il settore delle armature fu molto importante perché anziché iniziare a produrre armature di lusso come avveniva a Milano, i Bresciani si perfezionano appunto su modelli da fante, quindi forniture numericamente elevate. Un documento recentemente scoperto da Bruno Barbierolli racconta proprio questa storia. Si tratta di due manoscritti del 1549 indirezzati al Duca Ercole II d'Este. In pratica si tratta di una missione di spionaggio industriale in cui questo emissario del Duca d'Este cerca di capire come fanno a Brescia a produrre così tanti corsaletti in così poco tempo e di qualità così buona. Viene fuori da questa ricognizione che a Brescia esiste già una lottizzazione del lavoro distribuita su più botteghe in cui ogni prodotto viene suddiviso e poi come per intenderci non prendiamola la lettera però un protosistema fordista, quasi una catena di montaggio. I pezzi vengono portati ai vari armorari per le lavorazioni di loro competenza, quindi al maglio verrà fatto lo stampo, quindi ci sarà chi le livicherà, fino al decoratore. Ogni bottega è specializzata, chi negli elmetti, chi nei petti, chi nelle schiene e via discorrendo. Quindi il lavoro emerge da questi documenti era molto veloce perché in pratica a un'armatura singola non lavoravano meno di quattro o sei maestri ed è questo uno dei segreti della eccellenza bresciana nella forgiatura di armi ma soprattutto di armatura. A Brescia appunto abbiamo detto ci si specializza nella produzione di armature da fante, quindi meno lussuose delle armature da cavaliere ma con forniture anche di 50-100 armature alla volta. Ma quali sono queste tipologie di armature? Essenzialmente oltre alla pisana sono altre due. Quelle da guardia papale che si distinguono per essere generalmente con uno sfondo, con una metallocromia in genere scurita, che però recano delle decorazioni incise all'acqua forte e poi completate con foglia d'oro. Venivano usate dalle guardie papali, non solo dalle guardie svizzere ma anche dalla guardia nobile per particolari celebrazioni e tutt'oggi delle riproduzioni sono indossate dalla guardia svizzera per il giuramento. Mentre l'altra grossa produzione di corseletti da piede bresciani sono quelli da munizione delle ordinanze territoriali a cui abbiamo già dedicato un'opera del mese. In pratica la Serenissima, per diversi motivi soprattutto politici, istituisce nel territorio bresciano delle ordinanze territoriali, cioè delle milizie volontarie formate dagli abitanti delle varie comunità divise in picchieri archibuggeri e schioppettieri e i picchieri almeno le prime tre file stando ai regolamenti erano obbligati a portare un'armatura che era a spese della comunità e che quindi la comunità stessa tentava di risparmiare evidentemente commissionandole sul mercato locale che doveva essere decisamente più economico che il prodotto di importazione. In cosa differiscono tra loro? L'abbiamo accennato, differiscono sostanzialmente nella decorazione perché se le andiamo a vedere soprattutto nelle schiene, qui ho portato tre esempi, il primo è un corsaletto da ordinanza territoriale, il secondo è un corsaletto da guardia papale, il terzo è proprio la nostra pisana da Trabante. Cosa si osserva? Si osserva che la morfologia dei pezzi è pressoché identica, sono identiche le schiene, sono identici i petti, sono identiche le spalle, spesso sono identiche le braccia, solo alcuni esemplari di corsaletto da guardia papale a volte hanno il mezzo cannone, ma in genere anche le braccia quando c'è tutto il cannone di braccio e d'avambraccio sono identici tra loro. In cosa differiscono quindi? Differiscono sostanzialmente nella decorazione. Possiamo presupporre che fino a un certo punto della lavorazione di forgiatura le tre tipologie di armature fossero lavorate grossomodo allo stesso modo. Poi vediamo in questi tre dettagli si vede che a metà schiena tutte e tre portano una linea incisa probabilmente a bolino. Probabilmente questo era un'indicazione che veniva data al decoratore per la simmetria delle decorazioni che in alcuni casi o nascondeva o lasciava grezzi come nei tre casi che vediamo qui. Quindi questo ci fa pensare che appunto venissero forgiate tutte nello stesso modo a grandi linee anche con le stesse morfologie ma poi la differenza grossa arrivasse nella bottega del decoratore che le decorava a seconda poi della destinazione. Quindi fondo scurito e foglia d'oro per la papale, lisce o comunque solo sui petti i nomi delle comunità per le ordinanze territoriali e questa decorazione caratteristica all'acqua forte per le pisane. Quali sono le caratteristiche delle pisane quindi riassumendo? Sono appunto decorate all'acqua forte a bande verticali, generalmente sette sul petto e sulla schiena. Troviamo all'altezza del petto e sugli spallacci due cammè affrontati sempre, in genere si tratta nella maggior parte dei casi di un profilo maschile e uno femminile affrontati. Hanno sugli spallacci delle decorazioni incorniciate che in genere contengono dei motivi dei guerrieri all'antica o cose del genere, dei draghi, insomma delle decorazioni figurate. Le cornici delle bande sono recano delle greche e le bande appunto l'incisione dell'acqua forte ha generalmente dei trionfi d'arma, in molti casi dei trionfi anche musicali e sono sempre abbinate come elmo a degli zuccotti decorati alla stessa maniera. Esiste anche una tipologia di pisana da cavallo, non esistono solo da piede, sempre prodotte a Brescia. Alla sinistra vedete una parte delle pisane da cavallo conservate al Museo Marzoli della collezione di Luigi Marzoli. Un'altra molto famosa è il cosiddetto Filiberto del Salone della Cavalcata del Museo Stibbert. In cosa differiscono dai corsaletti da piede? Differiscono innanzitutto per la presenza della resta all'altezza del fianco destro per sostenere la lancia e per il fatto di avere anche, quando si sono conservate ovviamente, delle protezioni per le gambe, le cosce e gli stinchi. Esistono, esiste anche una variante di pisane i cui petti e schiene sono decorati solo da tre bande. Generalmente quello che riscontriamo da un'osservazione preliminare è che si tratta di esemplari un po' più lussuosi perché in genere hanno la decorazione all'acqua forte con un fondo dorato anziché lasciato color metallico o annerito in alcuni casi, quindi con una foglia d'oro e che noi vediamo in tanta iconografia indossata da principi europei. In questo caso sono gli arazzi delle feste dei Hoa Loa conservati agli uffizi e vediamo appunto che alcuni dei torneatori portano delle pisane, qui in questo caso da cavallo, vediamo in questa un elmetto da cavallo, però per il torneo a piedi evidentemente non avevano montato le gambe. Esistono altre varianti di lusso anche molto famose, ad esempio quelle di due gran maestri dei Cavalieri di Malta, uno Jean-Jacques de Verdelaine che ha la sua armatura ancora conservata alla valletta, vediamo una pisana di lusso con le tre bande anziché le sette e l'altro è il Vignancourt dipinto da Caravaggio e indossa proprio una pisana, anche in questo caso come quella di Verdelaine, ha tre bande ed è da cavallo, quella del Vignancourt ha il fondo annerito con una metallocromia nera, non escludiamo che nemmeno l'altra in origine potesse averle, ma nel corso dei secoli anche per motivi espositivi questi fondi anneriti o comunque di colori diversi possono essere stati modificati. Esiste anche una guarnitura alla pisana conservata in metropolita di New York, che cos'è una guarnitura? Abbiamo detto all'inizio che all'inizio del Cinquecento inizia a nascere un'armatura per ogni occasione, solamente che possedere un'armatura per ogni occasione potevano permetterselo solo pochissimi principi, in genere grandi principi, re, imperatori e nemmeno tutti i più importanti, i più ricchi. Quindi quasi sicuramente in Lombardia, probabilmente a Milano, a Brescia, nasce la guarnitura, cioè su un'armatura base si forgiano degli elementi interscambiabili in modo tale da poter creare appunto da questa armatura base un corsaletto da piede, un corsaletto da cavallo leggero, un'armatura da cavallo e addirittura armature da torneo per i diversi tipi di torneo. Quindi tornei a piedi, tornei a cavallo, tornei contro più avversari, tornei uno contro uno. E per l'appunto l'unica guarnitura alla pisana nota, quindi un oggetto assolutamente di lusso, è conservata al Metropolitan di New York e si tratta peraltro di una pisana classica i cui petti hanno le sette bandi verticali e non tre come quelle che riscontriamo in quelle maggiormente lussuose e ha la decorazione su un fondo annerito, almeno autoteticamente se non le aveva in passato, non si scorgono elementi dorati. E quindi è un altro pezzo che la cui forgiatura è collocata a Brescia. Dicevamo appunto sono tutte prodotte a Brescia, hanno queste decorazioni simili, che cosa troviamo dentro le bande? Abbiamo detto triunfi d'armi. Proprio sull'analisi di questa minuziosa, perché si tratta appunto di dettagli molto piccoli da ricercare all'interno di queste bande, qualche anno fa Yulia Igina, un'oplologa russa, ha dimostrato che tra le pisane sparse per il mondo alcuni elementi sono riconducibili tra loro. Ad esempio nella guarnitura del Metropolitan ha riscontrato degli elementi, ringrazio Yulia Igina per avermi permesso di mostrarvi queste foto, le ho chiesto solo degli esempi, appunto la guarnitura del Metropolitan Rec a questo corsaletto stilizzato che rivediamo in un petto sempre alla pisana dell'Ermitage, oppure questa armatura stilizzata che vediamo in un petto del Marzoli e che ritroviamo abbastanza simile sul petto del Bargello. In questa via Yulia Igina, ed è la teoria maggiormente condivisa in questo momento, dimostra che probabilmente dietro c'era la mano degli stessi incisori che ruotavano. Questo dato, unito alla recente scoperta di Bruno Barbirolli, dei due documenti che vi ho illustrato poco fa, ci porta a credere che davvero i decoratori fossero un certo numero di botteghe, che non conosciamo ancora nel dettaglio, e che appunto lavorassero in una sorta di distribuzione del lavoro a gruppi, petti, schiene e vari elementi che poi noi adesso possiamo, su base stilistica, riuscire a ritrovare nei pezzi conservati in giro per il mondo. La produzione di pisane in effetti è stata particolarmente ampia, si conservano tutt'oggi un grandissimo numero di pisane, o di pezzi di pisane ancora meglio, sparsi per le armerie e i musei di tutto il mondo, ma anche e soprattutto nelle collezioni private. In questo sistema di stemmi e di simboli che vi dicevo poc'anzi, troviamo alcuni simboli che in genere si ritrovano sotto lo scollo o a volte un po' più spostati al centro del petto e allo stesso modo si possono ritrovare dietro la schiena più o meno negli stessi punti. Si tratta di simboli che ritornano ciclicamente tra loro, anche questi alcuni indagati da Giulia Igina e come si vede in effetti questo stemma della brigantina, cioè di questa corazzina al di fuori di velluto è internamente metallica, stilizzata, la troviamo negli scolli di numerosi pezzi, lo vediamo con un petto e due schiene dell'ermitage, su un petto del bargello, in realtà al bargello se ne conserva un altro con lo stesso identico emblema, è leggermente diversa, un'altra brigantina vuotata nella direzione opposta, quindi probabilmente un altro incisore, su un petto marzoli, che vediamo anche su un altro corsaletto alla pisana, questa volta di lusso, vedete, ha lo sfondo dorato e anche decorazioni decisamente più raffinate, ma che reca lo stesso marchio della brigantina. Secondo me Giulia Igina e la maggior parte degli oplologi in questo momento, questo è quasi sicuramente, almeno ci sentiamo di avanzare l'ipotesi molto seria, che possa trattarsi del simbolo della bottega o dell'artigiano che incideva, quindi il simbolo dell'incisore, perché come vi dicevo ne troviamo tanti e ne troviamo uguali a gruppi su armature sparse in giro per il mondo e uno dei temi più frequenti è appunto il castello, in particolare il castello sull'elefante, si trova tantissimo, troviamo tante varianti di castello che indicano, se non mani, botteghe differenti e quindi più che di un maestro del castello, come spesso si trova nei cataloghi, si potrebbe parlare di maestri incisori del castello se un giorno soprattutto si riuscisse a collegare queste armature ovviamente ai documenti d'archivio che potrebbero risolvere tutti i dubbi che abbiamo in questo momento. Un altro simbolo che troviamo molto di frequente e che proprio portò il De Bellival a cognare il soprannome, direi più che il nome, di Pisana è proprio il colobo sormontato da croce, che troviamo in numerose varianti e spesso, come vediamo anche nel terzo esemplare a destra, sono tutti e tre pezzi del Marzoli, due conservati in deposito, vediamo appunto questa lettera P che se non è stata aggiunta nell'Ottocento o inizio Novecento, come spesso succedeva, evidentemente doveva indicare l'iniziale di un nome o di una bottega che portava il globo come simbolo. Ovviamente sono ipotesi tutte da confermare, ma in questo momento sono le ipotesi maggiori. Un altro globo che troviamo, lo troviamo almeno su tre esemplari, porta, è affiancato le lettere L e B. La fotografia è di un petto molto importante, conservato e disposto al Museo del Marzoli, proveniente proprio dalla collezione di Luigi Marzoli, che reca ormai a braso, probabilmente per le puliture nei secoli, ancora quando era oggetto d'uso, queste decorazioni a brase, tra cui una Madonna col bambino, quindi un oggetto, anche questo del Marzoli, non proprio ordinario, insomma già di un certo gusto. Le altre due marchi con globo LB molto simili, vi mostro il calco, si trovano su un corsaletto della Real Armeria di Madrid e su un corsaletto sempre da piede dell'Armeria Reale di Torino. Ora, questi due esemplari sono intanto molto lussuosi perché hanno tutte le decorazioni dorate e anche le bande sono decorate in maniera decisamente raffinata, un prodotto di altissimo artigianato. Dall'altro lato, l'esemplare di Madrid era sicuramente da bambino, perché appunto ha le dimensioni che possono andare per un fanciullo, quindi un oggetto già di per sé di lusso. Quello dell'Armeria Reale di Torino reca altri motti in spagnolo. Quindi possiamo affermare con una certa tranquillità che almeno gli esemplari di Madrid e di Torino sono stati fatti quasi sicuramente a Brescia per una committenza di lusso spagnola a cui ora possiamo aggiungere anche questo petto Marzoli che fino all'allestimento del 2018 era in deposito. Adesso l'altra domanda da porsi è le pisane e chi le portava. Insomma abbiamo visto questo complesso anche sistema di marchi, di simboli, di decorazioni, una lottizzazione del lavoro direi concettualmente anche molto moderna, molto all'avanguardia, ma chi le commissionava? Intanto grazie alla pittura fiamminga vediamo che molti corsaletti alla pisana sono indossati da comandanti o comunque rappresentanti di spicco delle varie guardie civiche olandesi e le rivediamo appunto nei ritratti delle guardie soprattutto un topos sono questi banchetti delle guardie ma anche appunto alcuni ritratti in cui si celebrano i comandanti quindi è un'iconografia piuttosto abbondante in Olanda e come vediamo qui uno dei capitani questo che regge la brocca porta proprio un petto con le scarselle alla pisana vediamo in quest'altro ritratto corale di rappresentanti, di comandanti di una guardia civica sono proprio gli ufficiali della bandiera arancione appunto orangista non vediamo proprio petti schiene ma vediamo indossare proprio gli zuccotti sono gli zuccotti alla pisana con le tipiche bande decorate all'acqua forte ancora vediamo altre guardie civiche olandesi altri ufficiali dei guardie civiche olandesi indossare chi sono in petto chi addirittura petto scarselle ma anche spallacci e cannoni di braccio quindi una committenza era senz'altro quella delle guardie civiche olandesi non abbiamo ancora isolato non sono ancora stati trovati documenti che specifichino questo commercio anche perché i documenti spesso sono molto avvigui nei documenti delle vendite soprattutto di questi grossi stock si parla di armature da fante spesso senza specificare oltre sicuramente quando troviamo armature da fante è altamente probabile che fossero comprese anche queste ma ovviamente non ne abbiamo la certezza possiamo solo ipotizzarlo un fatto curioso che accenno è che tra Brescia e la produzione armiera olandese ci sono buoni contatti già per tutto il Cinquecento perché a fronte delle canne delle armi da fuoco bresciane in particolare le celeberrime canne gardonesi esportate e imitate in tutto il mondo già in antico le prime armi da fuoco bresciane montano delle piastre dei meccanismi di accensione in realtà olandesi quindi in qualche maniera sappiamo che oltre ai contatti di varia natura c'era proprio un filo diretto tra l'Olanda e Brescia per quanto riguarda almeno la produzione di armi da fuoco quindi è verosimile ipotizzare che in questo via vai di merci e nella fattispecie di armi fossero compresi anche questi corsaletti per cui appunto i bresciani erano famosi non solo in Italia ma almeno in tutta Europa i corsaletti conservati in Olanda sono molto interessanti perché alcuni di essi contrariamente alla maggior parte di quelli italiani conservati in Italia recano alcune date che si aggirano tra il 1578 e il 1588 un'altra data la ritroviamo su un'altra pisana conservata al Metropolitan di New York che reca il 1571 quindi possiamo ipotizzare che almeno quelle acquistate per le guardie civiche olandesi siano prodotte proprio alla fine del 1578 tra il 1578 e l'88 comunque parliamo di un prodotto che viene forgiato verso la fine del 500 e quindi lo ritroviamo ancora molto presente e usato ancora per tutti i primi decenni del 600 altri personaggi altre milizie che portavano queste pisane erano i Lanzi chi sono i Lanzi? i Lanzi erano la guardia del corpo della famiglia Medici da quando Cosimo I diventa Luca quando cadde l'attribuzione dell'Ibelli Valla a questa fantomatica arsenale di Pisa in realtà ancora fino agli anni Ottanta si trova anche in qualche passo di letteratura recente poco aggiornata si è continuato a tenere per buono il nome di Pisa perché su abbiamo detto armature alla pisana o parti di esse se ne conservano tantissime in tutto il mondo abbiamo visto che molti simboli ritornano ciclicamente alcuni di questi simboli che tornano in un sostanzioso nucleo di Pisane su petti e schiene è proprio l'arme Medici le palle Medici con la croce di Santo Stefano sormontati da Corona Granducale e in genere come proprio nell'arme Medici la palla sommitale ha i tre gigli questo era stato interpretato come il simbolo dei Cavalieri di Santo Stefano che in effetti come vedete nella fotografia il simbolo di Palazzo della Carovanna sede storica dei Cavalieri di Santo Stefano in effetti è molto simile quindi può ricordare il simbolo che troviamo sulle Pisane ma in anni recenti abbiamo iniziato a mettere in discussione questa attribuzione intanto per un'osservazione legata alle armature proprio polologica alla fine del Cinquecento abbiamo visto che queste armature si possono iniziare a datare proprio in quegli anni lì nascono anche i corsaletti da mare cioè armature per combattere il mare e la caratteristica di questi corsaletti è proprio l'opposto di quella dei corsaletti da piede da fante cioè sono corsaletti un po' più stretti in genere non hanno spallacci o comunque hanno delle braccia molto diverse sono molto rari gli spallacci e le braccia di queste armature che si sono conservati ma la caratteristica principale è appunto terminare con un elemento che non sono le scarselle a protezione delle cosce ma in una sorta di ventre di grembiale che protegge proprio le cosce e la forbice delle gambe proprio perché per stare in equilibrio sulle navi bisogna stare a gambe divaricate e quindi è necessaria una protezione quindi il primo dubbio che abbiamo avuto è che morfologicamente queste pisane non hanno niente a che vedere con le armature da mare che appunto avrebbero dovuto portare i cavalieri di Santo Stefano essendo prevalentemente impegnati nella guerra di corsa contro i turchi nel Mediterraneo cosa abbiamo scoperto e nel 2019 con due colleghi Maurizio Alfaioli e Pasquale Foccarilla abbiamo curato una mostra agli uffizi abbiamo scoperto che queste armature in realtà erano appunto quelle che il Granduca di Toscana commissionava per la sua guardia del corpo in particolare per la guardia tedesca e da lì vediamo che questa guardia del corpo è onnipresente in tutta l'iconografia fiorentina laddove fiorentina e toscana laddove è rappresentato almeno un membro della famiglia Granducale vediamo in qualche punto dell'opera delle alabarde una selva di alabarde che rappresentano proprio la presenza di questa guardia del corpo tedesca questa guardia del corpo ha una storia particolare anche simpatica per molti versi perché ora riassumo proprio a grandi linee quando Cosimo I si ritrova quasi casualmente o esagero a ricoprire la carica di Duca di Firenze deve anche costruire in qualche modo la sua autorrappresentazione e la sua e la sua corte insomma in qualche maniera è importante per lui in quel momento stringere maggiori accordi con l'impero soprattutto con Carlo V in quel momento lui ha una guardia del corpo italiana comandata da Pirro Colonna che a Firenze è il vero uomo di Carlo V quindi Cosimo I cerca una scusa non solo per scalzare Pirro Colonna soprattutto nella sua posizione politica di vicinanza all'imperatore ma vuole un rapporto più duraturo approfitta di un di un episodio di un incidente sua moglie la moglie di Cosimo I è l'onora di Toledo figlia del vicere di Sicilia il vicere spagnolo di Napoli scusate quindi donna accoltissima raffinatissima di altissimo lignaggio era una grandissima appassionata di gioco di carte e in una notte ovviamente scommettevano forte giocavano d'azzardo e una sfida una notte tra lei che è una giocatrice abilissima e Pirro Colonna vede quest'ultimo perdere malamente contro la duchessa e la duchessa circondata dai suoi nanni come vediamo anche queste iconografie i nanni alla corte medice erano molti e ricoprivano anche dei ruoli di importanza fondamentale il nano probabilmente che vedete nell'incisione di Stradano a destra in primo piano è quasi sicuramente Morgante e Morgante era uno dei pochissimi uomini di fiducia di Cosimo I quindi i nanni sono importanti e l'onora di Toledo durante questa partita a carta è circondata dai suoi nanni Pirro Colonna che perde appunto come dicevo malamente in uno scatto di ira schiaffeggia dei suoi nanni entrando in una situazione di impasse il suo rango non gli consente non può chiedere scusa a una persona qualunque ancorché il nano della duchessa dall'altra parte però schiaffeggiare una persona di fiducia della duchessa è esattamente come schiaffeggiare la duchessa quindi questa è la scusa che Cosimo usa per licenziare la guardia italiana di Pirro Colonna e chiedere all'imperatore una guardia del corpo tedesca si tratta di cento alabardieri tutti i veterani di guerra spesso che portano a Firenze anche altri mestieri tipicamente tedeschi come tappezzieri orologiai eccetera quindi entrano nel vivo della vita fiorentina tanto che la famosa loggia dei Lanzi si chiama così proprio perché da lì si accedeva al loro quartiere generale ed era la loro postazione favorita quando la famiglia Ducale e poi Gran Ducale si trovava in Piazza della Signoria quindi una sorta di quartiere generale furono istituiti appunto dal 1541 per essere poi dismessi nel 1738 con il primo Gantuca di Casa Lorena e questi sono dei bellissimi disegni di Stefano della Bella che un po' come quelli di Stradano sono anche dei ritratti tanto che alcune fisonomie ci sembrano ritornare in opere diverse probabilmente perché ad esempio Stradano essendo anche lui Fiammingo e molti di questi lanzi erano tedeschi nel senso imperiale quindi dal Basso Tirolo dall'Alto Adige dall'attuale Alto Adige fino all'attuale Olanda venivano rollati appunto in questi territori e quindi avevano anche una loro chiesa una loro taverna dove probabilmente parlavano la loro lingua a Firenze abbiamo ritrovato e le loro canzoni da taverna e canzoni dei fiorentini che imitano in qualche modo l'accento tedesco e prendono in giro questi questi lanzi vengono chiamati lanzi proprio perché in dialetto fiorentino in vernacolo fiorentino lanzo è sinonimo di tedesco insomma un po' il nostro trucco attuale non ha niente a che vedere con i lanzi che necchi come termine e quindi hanno influenzato profondamente la vita e la cultura cittadina in tutto il periodo in cui sono stati in forza i granduchi per poi essere dimenticati repentinamente con la comparsa dei Lorena e molto dalla storiografia risorgimentale ovviamente antitedesca in realtà come vediamo in gran parte delle iconografie i lanzi come alabardieri operano nelle loro livret che sappiamo essere di colori sfarzosi e sgargianti ma in rara iconografia questa è una lunetta anonima l'altro è invece un dettaglio della festa degli omaggi vediamo che erano proprio armati indossavano in queste occasioni indossavano questi corsaletti alla Pisana con tanto appunto di zuccotto e di fatti la produzione le armature superstiti il numero più abbondante di armature alla Pisana superstiti è proprio conservata al Bargello al Museo del Bargello di Firenze che appunto raccoglie quello che è rimasto della grande armeria dinastica e della munizione della famiglia Medici e in effetti al Bargello vediamo che se tutte recano la corona ducale un esemplare uno solo in tutto il mondo almeno tra quelli che sono stati studiati e sono noti agli studiosi solo uno reca ancora la corona ducale quindi precedente al 1569 l'anno di incoronazione a Granduca di Cosimo I ciò significa che come dimostrato in più occasioni Maurizio Arfaioli i rapporti tra la Corte dei Medici a partire proprio dal Ducato prima ancora del Gran Ducato di Cosimo I i rapporti con la Serenissima sono intensissimi ma sono intensi soprattutto per Brescia cioè nei documenti fiorentini e la Cancelleria fiorentina intrattiene rapporti con la Serenissima solo per intercedere per gli approvvigionamenti di armi e in questi grossi fondi fiorentini appunto studiati e analizzati a fondo da Maurizio Arfaioli anche nei rapporti con Brescia che sono molto intensi troviamo tutta una serie di commissioni non solo di commissioni di armi che vengono acquistate e ne troviamo tantissimo in questi anni di corsaletti e anche qui come per quelli che ritroviamo in Olanda nei documenti si parla di armature da fante di corsaletti genericamente quindi è difficile dire che siano esattamente questi o quante siano realmente la Pisana di fatto in questi nuclei dovevano esserci anche queste qui e sono appunto tantissime ma sono anche tantissimi i rapporti in cui il Gran Luca di Toscana non solo Cosimo ma anche i suoi successori chiedono alla Serenissima di proprio avere in prestito di avere per un numero di anni limitato degli artigiani bresciani proprio per la forggiatura di armi qui un dettaglio interessante dicevamo all'inizio Brescia emerge e sfonda nel mondo armiero internazionale soprattutto per la creazione di questi altiforni i documenti toscani soprattutto i più antichi testimoniano in effetti che Cosimo I all'inizio non chiedeva tanto armaioli che facessero armi quando ne aveva bisogno in effetti in quei primi anni le comprava direttamente a Brescia tramite procuratori ma chiede maestri di forgia che siano in grado di costruire e far funzionare gli altiforni della Bresciana quindi queste armature raccontano una storia queste armature della Guardia Medice raccontano una storia veramente europea con utilizzatori che vengono da tutto il mondo germanico con una produzione che è tipicamente del nord Italia in effetti poi per realtà non solo italiane come appunto questa fiorentina ma anche quelle olandesi e chissà andando avanti con gli studi di quante altre guardie di palazzo del corpo o municipali erano armate da queste armature quindi la schiena nostra la schiena della collezione Marzoli oggetto appunto di quest'opera del mese è una delle schiene che fanno parte delle armature dei trabanti o per dirla come i fiorentini dell'epoca dei lanzi del Granduca quali sono le caratteristiche di queste armature sono anche qui per gruppi sono due tutte portano appunto la croce dei cavalieri di Santo Stefano con l'arme medici e la corona Granducale abbiamo visto solo una Ducale e però recano altri simboli cittadini o un guerriero all'antica che rappresenta il Dio Marte ed è sempre in posizione centrale quindi al centro del petto o della schiena perché il Dio Marte perché l'antico protettore di Firenze quindi un ulteriore modo di legarlo in questo modo anche in maniera anche piuttosto militaresca alla città o in alternativa troviamo la figura di San Giovanni Battista patrono della città quindi di Firenze quindi un altro simbolo che legava queste questa tipologia di armature alla città se andiamo a vedere il e peraltro la datazione fatta a queste armature furono studiate negli anni 80 da Lionello Giorgio Boccia e José Godoy mettendo a confronto alcuni esemplari del Bargello con quelli del Museo d'Arte e Storia di Cinevra e altri esemplari a confronto ancora loro non sapevano che erano sicuramente dei travanti del Gran Duca ma lo ipotizzavano oggi appunto soprattutto dopo la mostra del 2019 abbiamo anche una messa di documenti d'archivio davvero impressionante da quanto è monumentale e la datazione che fornivano proprio per la presenza della corona ducale era proprio i primissimi anni del Gran Ducato di Francesco I quindi il successore di Cosimo I e soprattutto di Ferdinando I soffre Francesco I muore prematuramente gli succede il fratello minore Ferdinando I che è poi in realtà Ferdinando I a creare una vera corte a Medicia a Firenze e che quindi probabilmente userà molto di più dei suoi predecessori queste armature per la rappresentanza dai documenti proprio della Guardia Medicia sappiamo che erano obbligati a indossare l'armatura solo per particolari circostanze che erano feste particolarmente solenni o visite di personalità di estrema importanza come altri sovrani monarchi o capi di Stato per quanto riguarda in effetti le 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 quindi si datano convenzionalmente tra il 1585 e il 1595 cosa che abbiamo visto guardando le date su quelli irlandesi è assolutamente verosimile anzi le datazioni sembrerebbero iniziare dal 71 ma addirittura quello zuccotto con la corona ducale potrebbe far supporre che sia una produzione anzi le prime pisane che sono state prodotte qualche decennio più avanti ben prima degli anni 70 e 80 il in questa via la schiena del Marzoli l'unica che reca tra le tante pisane che conserviamo al museo Marzoli appunto la mission di Luigi Marzoli era proprio documentare il prodotto lombardo particolarmente quello bresciano con grande intuizione perché negli anni in cui Luigi Marzoli era vivo di tutto questo non si sapeva niente anzi si collocavano tutte le armature generalmente a Milano forse prendendole per lombarde o forse iniziamo a sospettare che Luigi Marzoli avesse condotto studi molto più approfonditi di quelli che poi ha lasciato scritto ma sicuramente anche i suoi pochi studi scritti sono di estrema avanguardia anche con temi che sono stati sviluppati in anni recenti lui scriveva ho in mente un suo lavoro degli anni 30 dove fa uno studio lessicografico sulle armi e la lessicografia delle armi è stata ripresa non più di dieci anni fa quindi i suoi studi probabilmente all'avanguardia lo avevano portato a identificare probabilmente questi prodotti e ipotizzare che questi prodotti più che milanesi potessero essere bresciali quindi ne acquista tantissimi vi dicevo c'è una sovrabbondanza c'era c'è ancora una sovrabbondanza di questi oggetti anche sul mercato antiquario e quindi ne acquista tantissimi e questo è l'unico appunto afferibile alla guardia medicia proprio per la presenza del dell'arme medici delle palle medici in questo caso però non sormontate né dalla corona granducale né dalla croce di santo stefano che probabilmente erano sul petto e sullo zuccotto infatti nelle in quelle che conosciamo organiche cioè con tutti i pezzi suoi originali conservati sappiamo che i simboli erano sul petto erano sulla schiena raramente su tutte e due quindi probabilmente in questo caso il resto dei simboli erano sul petto o comunque sul davanti e dietro rimaneva solo l'arme medici la cornice ci lascia pensare a uno dei prodotti più tardi soprattutto la presenza non di due guerriere l'antica ma di due cherubini alati con tanto di arco ci fanno pensare più a una produzione ancora più tarda databile a proprio gli anni 90 del 500 se non addirittura proprio agli ultimissimi anni se non al primo anno del 1600 quindi non solo è un pezzo che testimonia la fortuna della produzione armiera in questo caso della produzione di armature bresciane in Italia e nel mondo ma è anche un pezzo molto importante per la storia dei rapporti tra Brescia e le grandi corti rinascimentali europee nella fattispecie in questo caso Firenze che fine hanno fatto queste pisane appunto ho detto più volte anche prima che sul mercato antiquario si ne trova un'abbondanza particolare come mai perché in effetti come vi dicevo prima al Museo Nazionale del Bargello si conserva ciò che rimane dell'armeria dinastica medicea questo perché perché Pietro Leopoldo il secondo granduca di Casa Lorena decise di fare spazio agli uffizi la grande armeria fiorentina si trovava proprio nelle gallerie del corridore degli uffizi dove oggi c'è la quadreria anzi se vi capiterà di visitare e alzare gli occhi al soffitto troverete proprio gli affreschi delle guerre fiorentine e soprattutto vedrete rappresentate tutte le diverse botteghe armiere proprio perché tradizionalmente quegli ambienti lì erano gli ambienti dell'armeria e di alcuni armaioli che lavoravano lì e Pietro Leopoldo a fare spazio fa una prima vendita da cui rimane ancora tantissima roba nel 1780 decide di vendere tutto il rimanente per sua iniziativa personale e lo vende al prezzo di ferrovecchio assi soldi a libra quindi diventa non solo per chi aveva già il gusto antiquario come molti collezionisti o molti pittori inglesi che addirittura si fanno fare delle prevendite per acquistare le armi medice che poi ritroviamo in diversi quadri del settecento inglese ma ha un'attrattiva fortissima anche per tutti i fabbri cittadini perché per l'epoca se i soldi a libra per del ferro di alta qualità era veramente diremmo oggi regalato quindi accorrono tutti i fabbri della città tra cui alcuni fabbri che qualche anno dopo verranno chiamati a rifare gli arredi in particolare gli armadietti della misericordia di Firenze del grande istituto di carità fiorentino li rifanno e le serrature con cosa le rifanno proprio appiattendo pezzi di queste tagliando appiattendo come si vede in queste fotografie pezzi di di queste pisane e avvitandole appunto agli armadietti questa anche è una scoperta recente fatta da qualche anno fa dal restauratore Primo Biagioni il restauratore della misericordia di Firenze che soprattutto l'igno che smontando questi armadietti si è trovato questi oggetti misteriosi e abbiamo subito riconosciuti che sono proprio parte delle pisane vedete uno reca ancora tracce di un guerriero all'antica proprio nella serratura e nell'altro invece si vedono chiaramente le liste decorate a bulino con le caratteristiche cornici a greche finita appunto la stagione della guardia medicia e anche delle guardie olandesi a inizio ottocento tutte queste armature vanno sul mercato antiquario e ci rimangono per tantissimi anni fino anche appunto all'epoca in cui Luigi Marzoli tra gli anni 30 e gli anni 70 metteva in piedi la sua importantissima e grandissima collezione di armi antiche ripeto soprattutto Lombarda in particolar modo Bresciana e riuscì a acquistare una grandissima rappresentanza di queste armature di cui appunto quella da trabante della guardia medicia è una delle più significative proprio perché possiamo rintracciarne tutta la storia complessa e affascinante con questo concludo e appena sarà possibile vi invitiamo al museo delle armi Luigi Marzoli a passeggiare soprattutto nel salone della cavalcata dove si vedono esposte un gran numero di pisane montate sui manichini ma anche di frammenti di pisane e abbiamo appunto le pisane classiche che abbiamo illustrato quest'oggi assieme alle pisane di lusso alle pisane da cavallo e anche agli altri corsoletti da piede tipicamente bresciani come quelli da guardia papale e quelli delle ordinanze territoriali alla prossima opera del mese